siamo siamo qui per iniziare una nuova avventura che è stata ideata da anna tamburini torre la quale ha pensato come ha spiegato bene pochi giorni fa ha pensato bene di dare vita a un'università della conoscenza che lei ha chiamato lux e ha chiamato me per iniziare questa avventura con con un argomento di cui io mi occupo ormai da moltissimi anni e il tema di questo nostro primo incontro è il cerchio firenze 77 cerchio firenze 77 non tutti lo conoscono quindi sarà materia di non voglio dire insegnamento ma di percorso insieme in questa nuova particolare università della conoscenza nella quale vengono affrontati tantissimi argomenti i più vari ma che riguardano in genere quegli aspetti che sono più trascurati nelle accademie ufficiali diciamo così circa firenze 77 la cosa di cui io mi occuperò il l'argomento che in qualche modo frequenteremo insieme in una forma che poi vi spiegherò la modalità con la quale procederemo in questo percorso diciamo che come prima volta per l'università della conoscenza e come prima volta del cerchio firenze 77 presentato in questa veste quello che farò oggi è cercare di tracciare un po di un piccolo piccolo quadro di dare dei punti di riferimento e raccontare un po di che cosa stiamo parlando a tutte le persone che non conoscono il cerchio firenze 77 anche se questo questa sigla cerchio firenze 77 è piuttosto nota a che si occupa di quegli aspetti che vanno oltre la cultura ufficiale le religioni ufficiali e via dicendo e si occupa anche di tutti quegli aspetti un po misteriosi della vita perciò la giornata di oggi la diretta di oggi sarà soprattutto dedicata a questo a questa presentazione del cerchio firenze 77 mentre sta andando questa diretta io cerco anche di vedere se riesco a farlo vedere chi c'è collegato con noi in questo momento e in modo da poter rispondere eventualmente a delle domande vedo tantissime persone che si stanno collegando non so se avrò la possibilità di rispondere ad alcune domande ma per adesso quello che voglio fare è parlarvi un pochino del cerchio firenze 77 il cerchio firenze 77 è stata una esperienza una eccezionale una straordinaria esperienza che è durata oltre oltre 37 anni e si è sviluppata dall'immediato dopoguerra dal 1946 fino al 1984 al centro di questa esperienza è stato un uomo un uomo come posso dire il normalissimo e misterioso al tempo stesso perché quest'uomo è stato molto descritto da chi si occupa di queste cose dai più grandi esperti e studiosi come forse il più grande medium che sia esistito anche se lui non amava definirsi così e chi si manifestava attraverso di lui lo definiva lo strumento attraverso il quale era possibile mettere in connessione due diverse realtà una a noi sconosciuta intangibile sfuggente che è una realtà che contiene questa nella quale noi invece ci muoviamo il nostro mondo per avere una forma di comunicazione da qualche cosa che sta oltre di noi e trasformarla in una in concetti accessibili a noi in esperienze accessibili a noi è necessario un tramite qualcuno che faccia da tramite tra questa altra realtà e quella che noi sperimentiamo tutti i giorni come la nostra realtà quindi roberto seti ha svolto questa funzione roberto seti è il nome della persona che ha svolto questa funzione ma nel 1946 roberto seti era un ragazzino 46 non aveva ancora compiuto 16 anni quindi era un quindicenne quando sono avvenuti questi fatti come è iniziata questa storia qua questa storia qua è iniziata con un dramma come spesso succede in questi casi il dramma che si è verificato è che un fratello maggiore di roberto seti improvvisamente è morto è tornato dalla guerra dove era stato impegnato sul fronte era un aviatore era andato tutto bene era tornato poco dopo che era tornato perché è morto nel 1946 è morto improvvisamente in maniera molto drammatica e la mamma di questo ragazzo di questo ruggero era disperato come accade normalmente nelle famiglie dove si perde un figlio un giovane i genitori oltre alla disperazione al dolore immenso che provano cercano anche di capire di sapere di rivolgersi a qualcuno questa mamma tramite una zia che aveva avuto delle esperienze un po strane si era convinta che era possibile comunicare in qualche modo ancora con il figlio ruggero e quindi aveva insistentemente spinto la famiglia a fare questo tentativo il tentativo venne fatto un giorno venne fatto questo tentativo più che altro per calmare un po questa donna per darle un po di soddisfazione convinti che non sarebbe accaduto niente invece accadde tutto si misero come spiegava questa zia che aveva avuto delle esperienze intorno a un tavolino in sette persone con le mani su questo tavolino allora usavano un metodo estremamente farraginoso che era un tabellone con tutte le lettere scritte sopra e un piccolo piattino che si spostava sulle lettere componendo le parole no questo tavolo appena iniziò questa che doveva essere una seduta in qualche modo senza sapere chi fosse poi il tramite si pensava che fosse questa zia questo tavolino cominciò a saltare per aria a battere colpi anzi vi ho detto una cosa inesatta perché allora non si usava un ancora non usavano questo cartellone con le lettere scritte sopra e il piattino che si spostava questa è una cosa venuta successivamente ma con i colpi battuti dal tavolino alzandosi battendo un colpo per la lettera a due colpi per la lettera b per cui era anche molto faticoso tenere conto delle parole che venivano composte sotto lo sguardo allebito delle persone che partecipavano ruggiero comunicò comunicò che era vivo vivo nella sua dimensione comunicò che aveva in un posto nascosto di casa sua aveva lasciato un diario che questo diario conteneva una frase lasciata a metà che quella frase si concludeva in un certo modo andarono a casa trovarono il diario videro che la frase così come era stata completata da dall'entità così si chiamano l'entità di ruggero effettivamente chiudeva bene quella frase che era stata la rimasta aperta lasciata aperta e quindi questo fu un colpo per tutti e fu una grande di grande conforto alla mamma e a quella prima seduta così estemporanea così da tra inesperti perché erano tutte persone che niente sapevano di queste cose aveva partecipato anche il quindicenne roberto fratello minore di ruggero ma l'avevano visto un po impallidire un po avevano temuto che si fosse un po spaventato quindi la mamma volle riprovare quanto prima di nuovo per dimostrare al marito che in quella prima seduta non era presente e anche ad altri che non le volevano credere che fosse possibile comunicare con ruggero e quindi voleva di nuovo fare più presto una seduta ma lasciarono fuori da questa seconda seduta roberto perché avevano la sensazione che si fosse un pochino impressionato fecero la seduta e non accade niente e con grande delusione della madre e anzi con gli altri scettici che si convincevano sempre di più del loro scetticismo quando tornò roberto che era andato fuori con il nipotino a fare un giro mentre veniva la seduta chiese come fossero andate le cose gli fu detto che non era accaduto niente e allora fu lui a dire ma no allora bisogna riprovare perché queste cose sono successe davvero proviamo dai proviamo riprovarono lui presente si manifestò di nuovo ruggero si manifestarono di nuovo dei fenomeni che accadevano praticamente in presenza di roberto quindi si capì che era lui il tramite di questi di questa manifestazione all'inizio fu una manifestazione di tipo come possiamo chiamarla paranormale come se ne sente parlare cioè con un medium la seduta le persone intorno che fanno la catena però fin da pochissimo dopo pochissimo tempo che si riunivano in questo modo cominciarono ad arrivare dei messaggi un po strani e durante queste loro sedute le sedute erano volte tutte quante a cercare di comunicare con coloro che erano passati dall'altra parte che erano entrati in un'altra dimensione di esistenza in quello che noi normalmente chiamiamolo al di là ma cominciarono ad intervenire dei messaggi di figure non meglio identificate che avevano più il sapore dell'insegnamento che del saluto del conforto da parte dei trapassati ora vi devo dire devo fare molto brevemente qui per darvi proprio così un quadro un po generale che quello che è iniziato in questo modo possiamo definire anche abbastanza semplice forse anche vissuto da da più persone varie esperienze in realtà ha dato l'avvio a un fenomeno di portata incredibile di una portata immensa perché oltre alle varie manifestazioni che roberto questo ragazzino cominciato fin da subito a manifestare sono state cose veramente eccezionali dal punto di vista anche fenomenologico basta basti pensare che lui fin da quasi subito ha avuto quella che viene chiamata la scrittura automatica ovvero lui un giorno era lì che stava facendo i compiti studiava da geometra a un certo punto chiamò la mamma 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 viene a vedere e lui aveva la penna appoggiata sul palmo della mano e questa mano si muoveva rapidissima sul foglio scrivendo scrivendo messaggi messaggi dei cari trapassati e questi messaggi che questa è una cosa che è veramente straordinaria perché è anche inconcepibile da realizzarsi normalmente tra viventi no lui di questi messaggi li stava scrivendo non li stava scrivendo lui ma i trapassati usavano il suo braccio come un'estensione dentro la materia e scrivevano con la loro calligrafia questi messaggi erano scritti nella calligrafia del trapassato che comunicava a chi era rimasto in vita in questa dimensione di esistenza comunicava il suo saluto una frase di conforto un saluto faceva sentire sapere che stava bene che era in una buona condizione di esistenza e via via e dicevano le cose che volevano comunicare ai loro cari con la loro calligrafia e voi sappiamo tutti che è impossibile riprodurre la calligrafia di un'altra persona e quindi avvenivano questi fenomeni questi di cui vi sto parlando sono fenomeni che non sono i più eclatanti del cerchio perché da quei primissimi tempi lui che intanto questo ragazzo che faceva una vita normale andava a scuola studiava era uno studente di media bravura non era né geniale né niente cioè il fatto di avere queste capacità paranormali non lo rendeva particolarmente brillante in qualche cosa era una persona normale che faceva una vita normale usciva con i suoi compagni però aveva questo lato segreto della vita perché stiamo parlando del agli anni tra il 46 primi anni 50 quei primi anni questi fenomeni erano abbastanza segreti si cercava di non far sapere tanto queste cose in giro saranno cose che insomma si cercava un po di proteggere anche la famiglia perché allora c'erano c'è una visione del cattolicesimo molto più chiusa di quanto non sia adesso e quindi queste cose erano cose pericolose si diffidava dal seguirle lì in realtà queste prime manifestazioni particolari che cominciarono ad arrivare questi messaggi erano dei messaggi che avevano un carattere mistico spirituale erano brevi messaggi però erano come delle prove per dare l'avvio a qualche cosa che sarebbe cresciuto nel tempo e quindi come crebbe nel tempo la capacità di roberto setti da un punto di vista di manifestazione delle sue possibilità paranormali allo stesso modo crebbe anche la qualità di questi messaggi fin quando dopo poco dopo un anno e mezzo circa che era iniziata questa forma di medianità iniziarono tutta una serie di esperienze cominciò roberto con delle piccole esperienze di levitazione cioè veniva sollevato dalla sedia su cui stava seduto durante la seduta venivano spostati oggetti che si muovevano e poi e poi cominciò cominciò quella che mi diede proprio l'avvio definitivo alla sua forma di espressione più consueta da allora che era proprio la offrire il proprio corpo all'entità perché utilizzassero le sue corde vocali e in alcuni casi anche che utilizzassero il corpo per alcune occasioni in cui fu utilizzato per delle missioni questo corpo di roberto setti questa modalità si chiamava e si chiama tutt'oggi tra chi si occupa di queste materie trans a incorporazione le trans di roberto fino ad allora erano state più contenute più legate a queste sperimentazioni di utilizzo delle sue capacità paranormali poi un giorno questo ragazzino cominciò a parlare durante la seduta con una voce che non era la sua questo preoccupò molto i presenti c'era la sorella più grande luciana setti che seguiva sempre questo ragazzino era un ragazzino ai 16 anni 17 anni e lei era molto protettiva nei suoi confronti ed era sempre in seduta quando venivano queste cose e naturalmente quando iniziarono le trans in corporazione all'inizio tutti un po si preoccuparono ma le entità le voci che cominciarono a parlare attraverso roberto setti erano voci di una tale levatura spirituale e di una tale bontà esprimevano proprio una vibrazione amorevole nelle loro voci che fu accolto subito a questa nuova modalità di comunicazione e cominciò lì un ciclo di insegnamenti molto lentamente quasi inavvertiti che sarebbe proseguito poi in maniera sempre più accelerata e approfondita e approfondita per oltre 37 anni da lì prese l'avvio qualche cosa che è di una portata incalcolabile a tutt'oggi perché quello che queste guide cominciando con questa piccola pattuglia sparuta di di persone normalissime la famiglia di roberto il padre di roberto e di ruggero che era trapassato era un idraulico un idraulico c'è una persona semplicissima gli idraulici di allora che facevano un po di tutto saldavano il piombo lavoravano con questo con il ferro con queste cose qua aveva una piccola ditta da idraulica la mamma di roberto era una casalinga insomma persone molto semplici e così le altre che frequentavano allora il gruppo poi dopo piano piano il gruppo si allargò entrarono altri giovani c'erano degli studenti diciamo che è diventato rapidamente un gruppo abbastanza come dire con una varia una grande varietà una grande varietà nella tipologia di chi vi partecipava perché erano tutti uniti da questa intensità questa attenzione e questa curiosità vuoi per il fenomeno perché poi avvenivano fenomeni e poi vi dirò anche qualche cosa di quello che avveniva dal punto di vista della materia fisica ma erano incuriositi proprio dal fenomeno in sé di queste voci che intervenivano voi dovete pensare che queste voci che intervenivano alle volte intervenivano i trapassati e quindi salutavano chi avevano i parenti che avevano in seduta o davano da mandare un saluto a qualcuno ma il più delle volte più delle volte queste voci avevano un loro progetto da da sviluppare chi partecipava allora cerchio filenzi 77 in cui primi anni non aveva chiaro che cosa stesse accadendo non aveva chiaro che stavano mettendo dei semi per qualche cosa che era un progetto che si sarebbe sviluppato per decine di anni in un modo sempre più approfondito regalandoci un materiale filosofico etico una descrizione della realtà della vita dell'uomo e poi vi dirò un po di di argomenti che sono stati trattati dentro il cerchio firenze 77 per tutti questi anni ma all'inizio queste persone non capivano la portata di quello che avveniva capivano che erano degli alti insegnamenti morali filosofici che spiegavano alcune cose che allora non erano molto conosciute come oggi venivano trattati argomenti anche di una certa levatura ma con semplicità e grano grano piano piano passo passo queste persone venivano istruite a cose molto alte e ai segreti e ai misteri della vita torna bene dentro una pagina di facebook che si chiama il mistero della vita perché erano proprio i misteri della vita quelli che venivano trattati della vita e del dopo vita anche naturalmente e quindi queste voci avevano ognuna la sua caratteristica queste voci hanno mantenuto inalterate le loro caratteristiche soprattutto la loro personalità per tutto questo periodo di tempo per tutti questi 37 30 quasi 38 anni in cui è durato questo fenomeno e ognuno aveva questa personalità la sua caratteristica e quindi portava avanti come un filone suo proprio di insegnamento e quindi hanno proprio poi costruito questo insegnamento voi dovete pensare che oltre a questi fenomeni che avvenivano incredibili adesso vi dirò qualcosa anche di questo queste voci hanno depositato per noi nel tempo un sapere che è di una portata veramente incalcolabile ancora oggi che insomma ormai alcuni di noi lo studiano da tantissimo tempo è qualcosa che ci porta in contatto con aspetti della realtà che ancora non sono del tutto conosciuti anzi ai più sono sconosciuti e più spesso nell'incontro con gli insegnamenti dei maestri come vengono chiamati i maestri del cerchio firenze 77 si soffermano alle cose anche comprensibilmente più immediate ad esempio il fatto che esista un al di là il fatto che cosa succede quando avviene il trapasso quando una persona lascia il suo corpo fisico e che cosa avviene nelle fasi successive poi che cos'è questa modalità con la quale si riprende si torna alla vita in un nuovo corpo per fare un'esperienza diversa quindi la funzione che hanno queste cose ecco fino a fino a questi argomenti c'è una un grande interesse da parte delle persone poi quando si va più avanti allora lì si entra in qualche cosa che le persone devono fare devono impegnarsi per cercare di capire di che cosa si sta parlando quando si parla di che cos'è il tempo per noi il tempo e lo spazio così come sono vissuti la nostra scienza ormai da circa 100 anni ormai ha cominciato a dirci che sono dimensioni che in se stesse non esistono ma sono introdotte dagli uomini vivendo no sono dimensioni che introduciamo noi attraverso la nostra vita perché in se stesso già da Einstein in poi noi sappiamo che un tempo oggettivo nel quale siamo calati a vivere non c'è però però noi il nostro senso comune ci fa vivere quella realtà vivendo quella realtà noi non possiamo fare altro che assoggettarsi un po alle regole di questa realtà che è un po illusoria nella quale ci troviamo a scorrere i nostri giorni e quindi queste guide ci hanno in realtà aperto degli degli sprazzi di luce sulle verità che riguardano anche questa realtà che noi viviamo in un certo modo perché siamo dotati di alcuni strumenti che ce la fanno percepire così come la percepiamo e via e via e via tutto questo sarà materia di approfondimento di studio in questa sezione dell'università della conoscenza voluta da anna tamburini torre sarà argomento di studio in che modo dunque dovete pensare questo che per circa 30 anni 25 anni del loro chiamiamolo proprio corso di studi che queste voci hanno fatto sviluppando ognuna la sua come dire la sua materia il suo filone tutti ben organicamente combinati fra di loro queste voci però circa 25 anni hanno preparato piano piano le basi per questo gruppo che è diventato sempre più numeroso di partecipanti al cerchio firenze 77 centinaia e centinaia e centinaia di persone hanno vissuto queste esperienze sono stati in presenza delle guide del cerchio firenze 77 da un certo punto in poi questo tutto questo materiale che è stato raccolto registrato sbobinato per cui esiste questo materiale esistono sia le registrazioni delle voci originali fin dai primi anni 50 sono cominciate le registrazioni delle voci dei maestri per cui tutto questo materiale è stato radunato e poi da questi sono stati tratti dei libri ora non sono stati tratti dei libri da coloro che partecipavano le guide stesse hanno organizzato i loro libri hanno scelto quale materiale andasse divulgato hanno proprio composto i libri li hanno composti in modi che io descrivo poi in una storia del cerchio che di cui vi fa qui vi farò ceno più tardi hanno proprio costruito questi libri e questi libri rappresentano tutto quello che c'è da sapere organicamente composto dentro questi volumi del cerchio firenze 77 e noi per entrare un po dentro questa materia che non è una materia difficile badate bene soprattutto il primo libro si 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 legge con molta facilità il secondo più impegnativo perché prepara quelli successivi diciamo che il secondo volume del cerchio firenze 77 come vedremo è il primo vero scoglio nell'insegnamento ma riflettendo studiandolo insieme leggendolo insieme cercando di capire le cose che vengono dette ci prepara bene ai percorso dei volumi successivi l'insegnamento del cerchio firenze 77 è stato tutto detto scritto preparato da queste guide come loro volevano che fosse non c'è l'intervento di altri al di fuori di queste guide se non il contributo per l'impaginazione per le cose pratiche da fare e questi libri oggi si ritrovano dovunque perché sono editi dall'edizione mediterranea tutti quanti si trovano nelle librerie da ormai abbiamo cominciato nel 77 quindi sono 40 anni abbondanti 45 anni quasi se voi pensate che qualsiasi libro qualsiasi libro che viene pubblicato ha due tre anni di vita editorialmente poi scompare questi libri continuano ad essere stampati e venduti adesso ci sono anche delle traduzioni che riguardano la lingua spagnola probabilmente abbastanza presto avremo anche la lingua inglese ma insomma tutto questo è marginale rispetto a quello che ci interessa quello che ci interessa è che noi per cercare di addentrarsi non tanto nell'aspetto fenomenologico che sicuramente è stato estremamente rilevante ma quanto per entrare dentro questo insegnamento meraviglioso dei maestri del cerchio a Firenze 77 noi useremo il metodo più semplice il metodo più semplice è quello che prenderemo il testo e lo leggeremo insieme io leggerò per voi i libri del cerchio a Firenze 77 ne leggerò un capitolo per volta inizierò dal prossimo nostro appuntamento inizierò presentandovi proprio le guide nel primo volume del cerchio a Firenze 77 che adesso vi mostro che è questo dai mondi invisibili incontri e colloqui vedete cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili incontri e colloqui edizioni mediterranee da questo volume all'inizio di questo volume ci sono diverse pagine che sono dedicate sono dedicate a presentare le guide in che modo? una brevissima presentazione che viene fatta da chi ha composto il libro ma poi il modo di presentarsi è lasciar parlare loro e quindi utilizzare le loro parole nella prima parte di ogni volume del cerchio le guide dedicano uno spazio a concetti di ordine etico morale senza entrare proprio nella come dire nella parte più didattica dell'insegnamento poi in ogni volume del cerchio c'è una terza parte che è proprio dedicata invece all'insegnamento etico filosofico del cerchio Firenze 77 una volta che vi avrò letto le cose che le singole guide ci propongono nella prima parte del volume inizieremo il nostro viaggio dentro l'insegnamento etico filosofico dei maestri del cerchio Firenze 77 cominciando proprio dalla prima pagina di insegnamento i concetti che vengono espressi all'inizio qui io voglio seguire una piccola traccia che mi sono fatto così rendo più efficace questa andiamo se la trovo così rapidamente allora questo insegnamento etico filosofico innanzitutto si è dipanato in modo molto coerente negli anni e si è caratterizzato come una specie di una filosofia globale della realtà che intende prendere in esame temi fondamentali del pensiero umano questi temi sono la struttura del cosmo nel quale viviamo che non è solo il cosmo fisico perché il cosmo fisico fa parte ancora della realtà che noi conosciamo come nostra realtà quando i maestri parlano di cosmo intendono più la dimensione legata al sentire alla coscienza il sentire è sinonimo di coscienza ma non la coscienza delle religioni non si parla della buona coscienza, cattiva coscienza niente di tutto questo bisognerà prendere un po' di confidenza con il significato che le guide del cerchio danno a queste parole che sono normalmente usate per esempio o dalla psicologia o dalla religione perché coscienza la usiamo noi psicologi e poi viene usata all'interno delle religioni qui quando si parla della struttura del cosmo si parla di quella l'area dell'essere dell'uomo l'essere dell'uomo il quale manifesta se stesso attraverso l'incarnazione io come voi siamo dei sentire degli esseri siamo esseri che sono in questo momento del loro percorso sono incarnati quindi sono dentro un corpo e fanno un'esperienza della realtà che riguarda precisamente l'essere incarnati cioè riguarda precisamente il fatto di avere un corpo fisico avere determinati sensori che sono i nostri sensi che ci restituiscono una realtà esattamente come quella che noi vediamo sentiamo, tocchiamo, odoriamo, assaporiamo intorno a noi quindi alla base di questa esperienza di essere da incarnato c'è in realtà un sentire, un sentire di coscienza c'è una coscienza che sta facendo il suo percorso una coscienza che sta percorrendo l'evoluzione altro concetto fondamentale su cui si soffermano le guide, i maestri del cerchio quindi si parla della struttura del cosmo intesa sia nei suoi aspetti, nelle sue componenti quello materiale che noi conosciamo e poi le altre componenti del cosmo che vanno dalla parte materiale fino alla parte della coscienza il rapporto tra l'uomo e quello che l'uomo è abituato a chiamare Dio che i maestri invece chiamano assoluto perché definiscono Dio come la coscienza assoluta la massima coscienza che contiene in sé qualsiasi altra forma di coscienza poi c'è, parlando della composizione sia fisica che psichica degli esseri umani ci parlano della morte, ci parlano di che cosa succede nel momento del trapasso dove ci si trova a prendere coscienza di vivere quali sono gli altri piani di esistenza che esperienze si fanno in questi altri piani di esistenza tutto questo, se voi pensate che queste guide hanno parlato per 37 anni quello che vediamo oggi, guardando l'insieme di questo insegnamento è una visione che fonde insieme grandi intuizioni sia della saggezza orientale che la saggezza più occidentale o almeno quella parte della saggezza occidentale che ha tradotto meglio la parte di saggezza orientale e lo ha fatto con la logica e con la razionalità del pensiero occidentale mettere insieme quella parte così mistica e questa parte così positiva è stato il grande compito che queste guide si sono date molte cose di cui parlano le guide facevano già parte del patrimonio dell'umanità e anche dei nuclei essenziali delle grandi religioni però c'è una modalità di argomentare oltre ad andare molto oltre tutto quello che fino ad oggi è stato presentato alla mente umana c'è questo argomentare lucido, chiaro, estremamente laico serenamente laico pur essendo di un grande spessore spirituale quello che si percepisce è una grande grande presenza spirituale non si può neanche parlare di una religione qui perché ciò di cui i maestri ci hanno sempre invitato ad evitare perché è di organizzarsi in qualche modo di organizzare come dire una confraternita un gruppo, fare elenchi, avere ufficiali rappresentanti tutto questo è sempre stato ci hanno sempre invitato a non farlo perché dal punto di vista umano è necessario organizzarsi per portare avanti le cose se non ci fosse stata l'Anna Tamburini-Torre che insieme a Enrico Ballantini non si fossero messi insieme avessero deciso di dare vita a questa esperienza creato uno spazio per proporre queste nuove cose in questa veste non saremmo qui a parlarne oggi quindi noi esseri umani abbiamo bisogno di un'organizzazione ma quello che ci indicavano le guide del cerchio è che in realtà qualsiasi tipo di grande esperienza quando intorno ad essa si sono organizzate delle strutture cioè sono nate organizzazioni organizzazioni soprattutto religiose quando si tratta di spirito sono i religiosi che hanno in qualche modo sentono di possedere una qualche forma di imprimatur quando avviene questo a poco a poco quel nucleo essenziale quel nucleo primigenio quella cosa che c'è all'inizio delle religioni proprio i nuclei originari perdono di importanza rispetto all'organizzazione che li promuove cioè l'organizzazione diventa più grande dell'idea iniziale e queste all'inizio questi movimenti partono con grande sincerità con intenti buoni l'intento di diffondere qualche cosa di straordinario che hanno vissuto e quindi di comunicare agli altri la bellezza della loro esperienza che è quella che per esempio hanno fatto nella religione che noi conosciamo alla quale noi abbiamo attinto le prime esperienze di ordine mistico e religioso che è la cristiano cattolica noi sappiamo che i primi apostoli si sono andati ognuno in una direzione portando il verbo del Cristo non si può dire altro rispetto al verbo del Cristo che questo grande, grandissimo maestro che è stato il Cristo ha portato delle cose che oggi a noi possono sembrare semplici nel modo di essere state presentate ma che sono essenziali per una vita armoniosa fra gli esseri umani ebbene queste cose sono al nucleo di questa religione ma quello che è avvenuto dal momento in cui questi apostoli sono andati in giro per il mondo e poi hanno fondato le loro chiese e poi le chiese si sono allargate e poi c'era bisogno di sostenere questa struttura economicamente di renderla potente poi insomma vediamo poi nei secoli quello che è successo e cioè vediamo che diventano luoghi di potere diventano luoghi economici potenti diventano si mescolano tanti altri interessi che sono non più gli interessi non più quel nucleo originale di questa persona semplicissima il maestro Cristo era forse il più grande maestro non è mai esistito però era una persona semplice una persona che andava vestita di poche cose che non aveva bisogno di chissà quale ricchezza, splendore, ori e immagini di questo genere qua non avevano insomma le grandi gerarchie ecclesiastiche che noi vediamo al sommo di praticamente tutte le grandi religioni oggi hanno poco a che vedere con quel nucleo originario ecco quei nuclei originari alla fine se si va a guardare hanno più o meno tutte la stessa danno più o meno tutte le stesse indicazioni che sono indicazioni che vanno nella direzione di amare amare le persone amare cercare di svuotare levare questo senso di separatività che ci accompagna costantemente nella vita questo egoismo connaturato in noi perché noi nasciamo come persone che hanno un io un io molto forte e questo io di base è già come posso dire il primo il primo pilastro nella vita dell'uomo che considera tutto quello che sta intorno a sé separato da sé noi viviamo questa costante condizione di separazione per la quale esisto io e poi esiste tutto quello che non sono io e l'uomo l'uomo di oggi ma l'uomo nei secoli è stato un uomo che si è abituato ad andare alla conquista di tutto questo che non sono io per tenerlo per sé per proteggere se stesso la sua famiglia il suo gruppo per coltivare l'appartenenza con gli altri ma tutta questa vicenda tutta questa vicenda umana è una vicenda che ha questo aspetto connaturato nell'uomo di sentirsi separato tutti i grandi nuclei di tutte le religioni danno l'indicazione invece di guardare la frase famosa del Cristo ama il tuo prossimo come te stesso ma il tuo prossimo come te stesso ma sia lui nei suoi insegnamenti più riservati un po' più segreti per i suoi discepoli e sia le guide del cerchio Firenze 77 questo ama il tuo prossimo come te stesso assume il valore nella spiegazione cruciale di come effettivamente sia la realtà perché questo ama il tuo prossimo come te stesso si conclude con la frase perché il tuo prossimo è te stesso ma non è un'affermazione messa lì perché suona bene perché è bella da dire perché così in qualche modo rappresenta un'aspirazione no, è assolutamente logica fa parte assolutamente della realtà il tuo prossimo è te stesso perché facendo il percorso di studi del cerchio Firenze 77 senza aggrapparsi a nessun particolare credo religioso o dottrina religiosa ma semplicemente seguendo la logica pura e semplice si arriva a comprendere che effettivamente il tuo prossimo è te stesso e che quella che tutti noi viviamo è una sorta di illusione che ci confonde un po' nella relazione con gli altri e ci porta a vivere gli altri come separati da noi e quindi entrarci in conflitto vederli distinti fare dentro di noi le distinzioni scegliere, decidere fare tutte cose che hanno in qualche modo il compito per noi incarnati al nostro livello di evoluzione hanno il compito semplicemente di proteggere noi stessi il proprio io e i propri interessi ma sono tutte cose che comunque portano a poco a poco l'uomo a superare quel senso di separatività così radicato dentro di noi che ci accompagna normalmente nella nostra vita potrei dire che tutto il percorso di insegnamento del cerchio Firenze 77 conduce a questo perché non è un apprendimento di ordine filosofico questo io ve lo devo dire perché perché poi lo scoprite strada facendo che non avrete se fate questo percorso appreso una filosofia no no i maestri non sono venuti per portarci delle parole i maestri sono venuti e hanno parlato per 37 anni attraverso Roberto Setti per trasformare delle coscienze ovvero per far sì che quel percorso evolutivo nel quale ognuno di noi è immerso avesse la sua come posso dire la sua svolta il suo punto di chiarezza rispetto a come stanno le cose ecco quindi che sicuramente in questi termini qua il percorso che faremo sarà quasi più un'esperienza che un percorso di ordine filosofico didattico devo dirvi anche qualche altra cosa io sono semplicemente Enrico Ruggini non sono né un maestro né una guida né una figura di rilievo del Cerchio Firenze 77 sono uno dei tantissimi che ha incontrato il Cerchio Firenze 77 che si è appassionato a questo insegnamento che è cresciuto un pochino io ho la sensazione di un pochino di essere cresciuto dentro attraverso il Cerchio Firenze 77 e questo sento di volerlo restituire ma fate conto che quei pochi commenti che io magari farò ogni tanto leggendo le pagine dei maestri sono il parto della mia mente sono la mia acquisizione sono quello che io ho capito ho cercato di capire ho messo a fuoco sì mi sono confrontato con tanti altri amici del Cerchio abbiamo passato intere notti a discutere fino all'alba per cercare di capire i risvolti più particolari di un'indicazione di una lezione talvolta più complessa di un'altra per cercare proprio di entrare dentro certo c'è stato tutto un percorso posso dire di avere un po' più di confidenza forse di coloro che si avvicinano per la prima volta ma non che questo significhi che io in qualche modo sia come posso dire un punto di riferimento o più di altri nel Cerchio Firenze 77 io sono un amico come tanti che mette a disposizione un pochino quello che ha capito un po' delle sue riflessioni rispetto al Cerchio Firenze 77 ma il percorso deve essere vostro deve essere di chi di chi si appassiona di chi sente che è la cosa giusta per sé i maestri dicono noi ci rivolgiamo a chi è insoddisfatto delle filosofie delle religioni delle accademie delle cose di cui è a conoscenza perché lì non trova le risposte che sta cercando qui vi posso dire qui ve lo dico da studioso perché naturalmente ho un'età e ho letto moltissimo mai abbastanza ma insomma ho letto tanto io credo che qui le risposte ci siano le risposte veramente a qualsiasi tipo di domanda credo che le risposte ci siano e non ho mai trovato in nessuno dei filosofi né antichi né moderni una tale chiarezza una tale nitidezza una tale logica questo insegnamento è essenzialmente logico è amorevole spirituale logico ma proprio non si sfugge è una logica assoluta non ci sono dogmi non ci sono affermazioni fideistiche non c'è niente a cui ti devi come posso dire riferire per fede perché è stato detto da qualcuno che è più in alto di noi no sono tutti passaggi estremamente logici se tu non salti un passaggio arrivi per forza a quell'unica conclusione che a quell'unica a quella conclusione che loro ci propongono e che noi troveremo facendo il nostro percorso perciò che cosa dobbiamo fare allora innanzitutto ancora non mi è chiaro se noi ci incontreremo tutte le settimane il venerdì alle 15 almeno questo è l'orario per adesso però tanto voi sapete che poi queste queste dirette sono anche registrate sono messe sul canale youtube e quindi poi uno le va a rivedere quando vuole per cui insomma l'orario ha un'importanza relativa diciamo ogni tanto butto qua un occhio e vi ringrazio tutti per questo per queste questi saluti questo affetto che c'è ma quello che noi faremo partendo dal primo libro ecco dotatevi di prendete tenete a portata di mano il vostro telefonino perché adesso io vi mostro un paio di cartellini che con con grande capacità tecnologica ho preparato ho semplicemente scritto su dei cartoncini con un pennarello le cose che vi voglio comunicare poi un giorno forse qualcuno mi spiegherà come si fa a farlo in maniera più professionale ma per adesso ci dobbiamo arrangiare così chiusi in casa col covid quindi facciamo quello che possiamo vi faccio vedere questi due cartelli voi magari gli fate una foto col vostro telefono fate una foto un fermo immagine con col vostro telefonino in maniera tale che poi avete le indicazioni che vi servono io comincerò a leggere come dicevo il primo libro che è questo attenzione cartellino in arrivo è questo qua la parte sopra di questo cartello vediamo se si vede ecco così si vede bene ecco questo il libro è cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili ed è edito dalle mediterranee chi non avesse chi non avesse questo libro chi non avesse questo libro su un altro su una pagina facebook che adesso vi dico verrà pubblicato il testo parti del testo che verranno lette da me quindi se io leggerò durante una di queste occasioni quattro cinque sei dieci pagine non so quante comunque c'è qualcuno che metterà questo testo a disposizione su questa pagina facebook qui questa pagina facebook spero che la vedete bene ecco così si dovrebbe vedere bene è il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda vedete questo il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda è anche il titolo della storia del cerchio Firenze 77 che io ho raccolto in tre volumi che è possibile trovare solo su amazon.it per cui diciamo che questa per molti adesso vi mostro il libro questo libro qua per molti è stato un come posso dire un ingresso facile agli insegnamenti del cerchio Firenze 77 questo non è un libro del cerchio Firenze 77 i libri del cerchio Firenze 77 sono questi vedete c'è scritto proprio sopra qui cerchio Firenze 77 e questo è il primo libro che leggeremo l'altro che vi ho mostrato invece è il primo volume di questa storia del cerchio dove si narra proprio tutto quello che è avvenuto e lo si narra in una forma un po' romanzata ma riportando è proprio la storia dei testimoni di coloro che hanno vissuto questa vicenda ed è un'introduzione facile per avere un quadro di quello che è accaduto i libri invece che verranno letti da me sono proprio quelli di insegnamento per cui quelli che portano la scritta in alto come autore cerchio Firenze 77 non Enrico Ruggini e via dicendo ma proprio semplicemente cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili il primo volume pensate che i libri voluti dai maestri e costruiti dai maestri scelti voluti dai maestri che sono quelli che raccolgono tutto l'insegnamento hanno questi titoli che costituiscono una frase bellissima perché dai mondi invisibili oltre l'illusione per un mondo migliore le grandi verità ricercate dall'uomo questi sono i quattro libri che i maestri stessi hanno compilato hanno volume gira i fogli si leggono all'incontrario ah dice i fogli si leggono all'incontrario beh allora io non so come si fa non lo so così si leggono meglio no non credo allora basta poi la gira ah ecco vedi vedi allora qui danno istruzione dice che si vedono all'incontrario allora qui dicono basta eh leggete all'incontrario oppure basta fare una foto e poi girarla molto semplice poi se devono essere non so se all'incontrario si intende così se si intende così io ve li faccio vedere anche all'incontrario non so se funziona oppure se è un effetto specchio quello che vedete questo è uno dei cartelli e questo è l'altro c'è una cosa che vi devo anche dire rispetto a questo secondo cartello che adesso metto sotto sopra così ve lo fotografate come volete allora qui in questa parte qua è scritto il nome del sito che potete che potete consultare su questo sito che si chiama cerchiofirenze77.org org come organizzazione ma non è un'organizzazione vi ho detto cerchiofirenze77.org su questo sito voi potete anche trovare e scaricare brani in voce dei maestri andiamo la mia ah è un effetto specchio mi dicono quindi noi non lo possiamo fare l'effetto specchio fatta la foto leggiamo noi allo specchio bravissima bravi 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 sì perché qui mi arrivano segnali che così come ve l'ho proposto non funziona tanto bene ma gli specchi ci aiutano sono molto tecnologici anche loro allora tornando a noi quello che faremo è questo che vi ho detto se non riuscite a procurarvi il libro e non è obbligatorio farlo perché noi metteremo il file con ciò che leggeremo sulla pagina facebook il cerchiofirenze77 una storia vera divenuta leggenda quindi quello è lo troverete comunque lì così potrete seguire la lettura prendere appunti non so se qui mi dicono se usa un pennarello grosso e un foglio sottile può girare il foglio ma senti qua quante ma sono devo dire una genialità le persone grazie di tutte queste indicazioni ma io credo che se vi sottoponete al piccolo sforzo di leggere al contrario quello che avete fotografato ce la fate lo stesso non è non è un testo così lungo riusciremo comunque la prossima volta cerco di organizzarmi meglio cioè scriverò dei cartelli quando faccio dei cartelli li scrivo scrivendo all'incontrario per facilitarvi va bene io so che avrei veramente tantissime cose da dirvi vi dico soltanto questo che sono francamente contento di avere questa opportunità di condividere con altre persone un'esperienza enorme che mi è capitata mi è proprio capitata e quindi mi ci sono trovato dentro ero molto molto giovane conosco il cerchio di Firenze in 77 da più di 40 anni e quindi è stato qualche cosa che ha accompagnato la mia vita ma che mi ha permesso anche di accompagnare molte persone nel loro viaggio talvolta faticoso nella vita ed è un modo questo per cominciare a smussare quel senso di separatività di cui vi parlavo prima alcune cose che avvengono talvolta nella nostra vita come quella che stiamo vivendo in questo momento hanno anche questa funzione e qui veramente vorrei invitarvi a riflettere un attimo a quello che sta succedendo perché al di là dell'insofferenza che abbiamo per stare in questa condizione in cui ci troviamo attualmente al di là di questo effettivamente non so se accade anche a voi ma ci viene da da pensare come stare più vicino ad alcune persone sapere che ci sono persone in difficoltà che hanno bisogno e pensare come potremmo fare in qualche modo per aiutarli o cercare di immaginare come possono stare alcune persone con cui non siamo in contatto e quindi sentire questa vicinanza con gli altri più di quanto magari non facevamo prima che avvenisse tutto questo e che fossimo costretti a fermarci a rallentare a rivolgere il nostro pensiero anche ad altre cose ecco io credo che anche in questa esperienza ci sia un'opportunità credo che ci sia in qualsiasi cosa un'opportunità di crescita come vi dicevo prima quando ho accennato al fatto che ogni tanto mi capita di incontrare dei genitori che hanno perduto i figli forse non ve l'ho detto ma parlando della mamma di Ruggero che così disperata cercava questo contatto con il figlio sì questi genitori perdono i figli e sono nella disperazione ma più di una volta mi è capitato nel mio lavoro e anche in altre occasioni di vedere come esperienze così dure così difficili così pesanti della nostra vita portano talvolta come frutto dei cambiamenti così profondi dentro le persone alle volte alcune scivolano nel baratro entrano in un buio da cui non riescono a uscire ma molte altre volte io ne ho incontrate veramente tante le esperienze della nostra vita anche le più dure producono effetti inaspettati fino all'estremo qui vi dico una cosa estrema perché l'ho incontrato più di una volta ma non così frequentemente proprio per genitori che hanno perduto figli che il percorso che avevano fatto dopo quella loro esperienza così drammatica li aveva portati ad aprirsi ad alcune cose della vita a fare certe scelte andare in certe direzioni che non avrebbero fatto non avrebbero non ci sarebbero andati se non ci fosse stata prima quella esperienza come se quelle esperienze le avessi spinti a superare un blocco un freno che impediva loro di fare di andare di esprimere completamente se stessi e di solito nella direzione di pensare ad altri aiutare altri mettersi a disposizione delle altre persone e alcune di queste persone sono arrivate a dirmi addirittura è stata durissima non vorrei mai averlo vissuto ma è stata una cosa che mi ha fatto crescere e forse oggi non rinuncerei a quell'esperienza sapendo che non avrei questo che non avrei fatto questo e che non sarei cresciuto come sono cresciuto in questa esperienza sto parlando di casi più estremi di grande trasformazione interiore attraverso un'esperienza dura della vita ma quello che noi apprenderemo studiando l'insegnamento leggendo insieme via leggendo insieme l'insegnamento dei maestri è che tutto quello che ci accade ha un significato per noi evolutivo anche se nel momento in cui noi lo viviamo soprattutto se è un'esperienza di quelle drammatiche durissime questo non riusciamo a coglierlo e neanche ad accettarlo ed è comprensibile che sia così comprensibile assolutamente però qui abbiamo la possibilità di capire che molte di queste cose sono effettivamente delle opportunità per noi dipende da come noi le leggiamo e a proposito di leggere ci vediamo una prossima volta con un appuntamento allora qui continuano a scorrere nomi un sacco di gente che sta guardando ci vediamo il prossimo appuntamento credo che ve lo comunicherà direttamente Anna Tamburini-Torre ma verrà comunque annunciato sia sulla pagina di Focus 3.0 il mistero della vita su cui voi siete collegati adesso sia sulla pagina il cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda dove troverete anche i file i testi che via via leggeremo e anche qualche cosa di più e poi vedremo volta a volta mi dicono qua c'è Barbara Canni non so se ci conosciamo comunque ti saluto Barbara Canni perché molto gentilmente dice che ci vediamo fra due settimane va bene quindi prendiamo per buono quello che ci dice lei è più informata di me va bene io sono molto felice di aver avuto questa occasione di dare il battesimo ufficiale iniziare dare l'avvio all'UX all'Università della Conoscenza costruita creata in questo spazio di Focus 3.0 voluto da Anna Tamburini Torre e vedremo se insieme potremo fare un po' di strada con la lettura dei maestri i quali ci accompagnano costantemente a presto a presto